Buonasera siamo qui a Gaiba durante la 56esima edizione della fiera di Sant'Anna, fiera appunto che quest'anno ha ospitato diversi eventi a partire dalla processione che si è tenuta mercoledì sera appunto dedicata a Sant'Anna fino a ieri sera appunto lo spettacolo di Don Giacinto, una compagnia teatrale della provincia di Rovigo che ha accolto numerosi partecipanti, questa sera abbiamo come vedete alle mie spalle la mostra di Auto d'Epoca, le cui presenti 500 famosissime e domani sera chiuderemo appunto la nostra fiera paesana con lo spettacolo di Virna Marangoni, semifinalista di The Voice del 2016. Questa sera oltre alle 500 ospiteremo anche uno spettacolo alle 21 di Sandro e Steve, un duetto musicale appunto, quindi vi aspettiamo numerosi e buon divertimento.